E' stata già attuata in diverse parti del mondo, come Belgio, Portogallo, Nuova Zelanda, Regno Unito, Islanda e Emirati Arabi Uniti. E ora, la settimana corta, potrebbe sbarcare anche in Italia. La banca intesa San Paolo ha proposto ai dipendenti, tranne quelli delle filiali, una rimodulazione della settimana lavorativa, rimanendo in ufficio per quattro giorni al posto di cinque, con un aumento delle ore quotidiane che passerebbero da sette e mezzo a nove. Tecnicamente, il contratto dei bancari già oggi lo prevede, ma occorre la contrattazione di secondo livello avviata dal gruppo con i sindacati di categoria. Questo consentirebbe ad ogni lavoratore, a parità di retribuzione, di avere un giorno libero in più, per una prestazione settimanale complessiva di 36 ore rispetto alle attuali 37 e mezzo. Lei che cosa ne pensa? Un'ora in più? Un'ora in più al giorno, nove ore per quattro giorni a settimana. Ah beh, riducendo i giorni settimanali, perché no, forse si ha anche un risparmio energetico, visto che lavorano in ambienti molto illuminati, climatizzati d'estate, riscaldati d'inverno, quattro giorni risparmi un giorno lavorativo e lavorando un'ora in più al giorno. Si può sperimentare, non penso sia una cosa irreversibile. Io penso che nell'ambito del risparmio energetico è sicuramente una buona proposta. Ho visto già degli esempi di ditte che cominciano a lavorare prestissimo al mattino, quando l'energia elettrica costa meno. E poi si lasciano le persone libere di vivere la loro vita. Speriamo che si riesca anche in Italia. Per me è positivo, non so per loro, però per me è positivo, fai un pochettino più weekend, venendo di sabato e domenica. Anche il dipendente è più libero, può fare quello che vuole in famiglia. Adesso col fatto che lavoriamo tanto e non abbiamo neanche il tempo di stare in famiglia, per me l'operario ci sta meglio. Potrebbe essere una proposta molto interessante, permetterebbe di vivere meglio la vita di tutti i giorni. Si lavora troppo e c'è chi lavora poco, ovviamente. Una proposta nata dopo lo smart working, in cui la ditta ha visto che il risultato c'è ugualmente. Sì, effettivamente ho sentito dire anch'io questa cosa, quindi potrebbe essere una proposta sana più che altro per la vita delle persone. Penso che vada abbastanza bene per alcuni lavoratori, forse per qualcun altro un po' meno, ma diciamo per la maggior parte sì, sono d'accordo. Potrebbe essere un vantaggio anche per le ditte, che quindi risparmiano in questo tempo di rincari? Potrebbe essere un risparmio, diciamo per quanto riguarda sia il consumo, io ho lavorato una ditta, si consumava molto gas e dell'elettricità, per loro penso che sia un risparmio notevole avere un giorno di meno sia di consumo di gas che di luce. E' chiaro che se sei in un momento di contrattura del lavoro, nel senso che il lavoro non è tanto, può andare bene, può essere qualcosa di più brutto, se il lavoro è tanto perché non riesci a fare la produzione che potrebbe servire, ma in un momento di recessione come stiamo andando adesso, penso che fare la riduzione a quattro giorni sia, non diciamo l'ottimo, ma il meglio.